e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e come avete capito dal titolo oggi video all spacchettamento di busi shop questo è il terzo ordine che faccio da questo sito e mi piace veramente ma da matti lo adoro entro cinque sei giorni il pacco vi arriva è tutto intatto e tutto imballato alla perfezione come gli altri due pacchi mi vedete truccata perché poco fa ho fatto un video su questo qui su questo trucco qua che è ispirato al gattino bz se si pronuncia così non so che si scrive così ma non so come si pronuncia scusatemi nel ser del terzo gattino e ultimo degli aristogatti che abbiamo fatto i tre cuccioli quindi abbiamo fatto meno miss miss vabbè quello arancione questo nero insomma non me ci stanno questi nomi in testa ok e quindi chi lo vuole andare a vedere basta che va indietro su 12 video indietro e lo vede in questo bellissimo trucco lo faccio vedere mi piace veramente tanto il gattino è nero quindi fatto su questi colori qua perché altro più total black insomma sul nero veramente veramente bello mi piace tanto questo trucco come mi è venuto quindi mi vedete anche con la stessa maglietta e quindi chi è che non l'ha visto il video del ghettino e di utili può andare indietro e lo può vedere allora questa volta per quanto riguarda questa collezione qui che vi farò vedere adesso per specchiettiamo insieme ovviamente ho solo guardato la confezione ovviamente dietro visto tutti i prodotti anche all'interno anche dentro le palettine per vedere ovviamente sarà tutto intatto ed è tutto intatto alla perfezione e ed è la collezione di batman come avete capito già dal titolo e questa volta la make up revolution ho fatto una collezione veramente veramente carina e sfiziosa mi è piaciuta veramente tanto ovviamente non ho preso tutta la collezione ho preso solo cose che mi interessavano di più altre non è che mi suscitavano così tanto scalpore però queste le cose che proprio veramente adoro adoreggio tantissimo non vedo l'ora di farvele vedere ovviamente adesso faccio un face to face ve le faccio vedere così poi rigiro la telecamera e vi faccio vedere tutti i prodotti bene nel dettaglio andiamo a sbucciare anche insieme i swatch ovviamente non ho sbucciato niente quindi non sono curiosissima di vedere come sono i colori a me mi piace molto di più collezionare palette per quanto riguarda una collezione anche se non è tutta completa tutta completa meglio ben venga se no anche se è solo cinque prodotti da una collezione che ha 15 prodotti non me lo frega però comunque metà collezione ce l'ho poi certo su non c'è tutta la collezione tutta intera meglio ben venga ripeto e adesso la faccio vedere allora solito intanto vi faccio vedere pacco eccolo qua allora solito il bigliettino questo è il terzo ordine che faccio da busy shop e mi trovo veramente bene con loro il pacco che arriva entro 5 6 giorni sono una bomba poi imballati bene i prodotti eccolo qua e poi dietro c'è scritto thanks greta a parte da da parte di nina è sempre lei perché anche l'altra volta sono credo pacchi precedenti sempre lei in mina poi ovviamente dentro c'è il solito questa qui eccola qua la carta e questo tirano tutto fuori eccolo qua guardate sono tutta lei si l'ho aperta nerni messi meglio dentro e tutti imballati alla perfezione allora questo quale mettiamo un po davvero fatela un buon lavoro e qui ci sono tutti i prodottini adesso vi faccio vedere allora se fate un ordine non mi ricordo di quanto che superato una soglia vi danno l'omaggino e il bello di questa azienda debusi shop che l'omaggino lo potete scegliere voi l'altra volta avevo scelto un pennello da ombretto piatto questa volta gli altri così le nome dicevano niente ho scelto questo pennello qui questa volta questo qui è per sfumare il colore da transizione e ce n'ho da già due o tre però questi non bastano veramente mai mi facciano tanto i pennelli da transizione come sapete come già avevo detto anche in un altro video adoro fare la transition e piace da morire allora adesso lo faccio vedere meglio nel dettaglio ti prego mette a fuoco grazie allora questo qui è il pennellino molto molto morbido si sfuma bene i colori vedete la sfumatura è rosa qui c'è stalla b bianca di busy shop abusi no quando blender c'è scritto acqua busy shop veramente bello adoro in questo modo molto molto morbido come quell'altro adesso lo vado a rimettere qui dentro così per adesso non si è sporca insomma ok quindi pennellino quindi questo qui era l'omaggino che ho scelto poi ho acquistato perché io ho già un fissante per il viso che questo va bene anche per i pennelli questo qui della essence che è il glove to go della essence siccome mi sta quasi finendo non ho voluto acquistare un altro pensavo che era un po più grandino invece vedete piccolino questo qui si chiama technique del oi setting spray spray fixant quindi uno spray ovviamente fissante da 31 ml faccio vedere meglio nel dettaglio aspettate eccolo qua molto molto bello carino per il pack molto carino infatti io mi ero innamorata moltissimo per il pack è veramente bellissimo che in questo rosa delicato tipo rosa mischiato bianco panna pare e dorato veramente veramente bello dorato oro rosa bupare molto molto bello e poi ragazzi ha una profondazione pazzesca veramente veramente bello e qui dietro infatti vi fa vedere anche che dovete stare abbastanza insomma distanti dal viso per applicarlo ok adesso invece vi faccio vedere tutte queste cosine qua allora partiamo dagli illuminanti ho acquistato l'illuminante di batman e l'illuminante di catwoman sono spettacolari ragazzi ovviamente io le scatoline le tengo sempre ovviamente gli sti capelli insomma come metterli allora ora faccio vedere meglio nel dettaglio questa qui è la confezione la scatolina illuminante è tutto apaca qui invece il simbolo di batman è lucido è tutto nero e c'è questo tipo oro rosa pure questo e anche i pipisterelli sono noi i pipisterelli sono opachi però questo è lucido dietro così adesso la prima insieme e vi faccio vedere all'interno della pallettina allora è proprio carina piccolina eccola qui la pallettina ovviamente il pack uguale scusate mi rottino è uguale alla scatolina fatto in questo modo tutta nera veramente bella e adesso la faccio vedere l'apriamo c'è lo specchietto anche la pellicolina questo qui è l'illuminante dopo andiamo a sbucciare tutte le cose insieme e belli di questi perché è tutto nero opaco e ai pipistrelli anche qua dove c'è lo specchietto lucidi veramente bella la vicino un po meno ma vedete sfocata quindi questa era una ovviamente la lascio fuori dalla scatolina perché dopo dobbiamo andare fare i swatch questa invece di catwoman molto bella anche questa sempre opaca e alla forma della testa del gatto brillantinata nero nero e nero argento brillantinato veramente carina apriamo anche questa che adesso ci metterò un'eternità ad aprire hanno faccio mettevo di più eccola qua la pallettina ovviamente uguale identica alla alla scatolina l'apriamo eccolo qua sopra c'è il solito specchio con la pellicolina questa differenza di batman invece è tutta nera opaca lucida ma tutte queste righe che sarebbero tipo i sgraffi delle unghie di catwoman che lei fa solito specchietto vedete qui c'è lo specchietto faccio vedere fatto così come come batman uguale e questo è il suo illuminante è un bronze ma è veramente bello mi piace questi illuminanti qua tipo come questo qui che ho che è di e gli aristogatti veramente veramente bella ok quindi questi due erano gli illuminanti batman e catwoman adesso andiamo con le palette o 45 palette allora stando in tema comunque batman e catwoman andiamo con batman eccola qui questa qui la scatolina questa stavolta opaca il simbolo di batman lucido è i pipistrelli argentati neri brillantinati sentite è una cosa carina che qua ne messo l'etichetta che fa vedere i colori all'interno come sono questa è la scatolina eccetera eccetera adesso la prima insieme e ve la faccio vedere eccola qua questa qui è la pallettina vedete anche dell'auto fatto questo modo e dietro c'è una frase che dice batman credo non ve la sto pronunciare adesso la sua rosa anche questo la pallettina in questione a dietro vi fa vedere quanti colori ci sono che sono 9 e la palettina in questione è questa qua il solito specchio e qua c'è la pellicola aspettate come vi faccio vedere così poi tanto li vedrete meglio mi piacciono molto questa tipologia di colori perché sono sul nude malva tipo violetto questo qua un po corallino o no mi pare corallo ma no è marrone e marrone scuro qua sfalza il colore e questi shimmer a sia opachi che shimmer e poi c'è scritto i nomi peccato che i nomi non sono scritti sulla pallettina ma sulla pellicola però vabbè insomma questa poi quindi questa è un'altra scatole li metto un attimo via qua poi abbiamo questa di chat uomo alla pallettina che è veramente stupenda guardate che pecc bellissimo questa invece tutta brillantinata e già l'opaco del viso a partì gli occhi pure brillantinati qua i soliti umbretti che ci sono all'interno veramente bella dietro così adesso l'apriamo insieme eccola qua la pallettina guardate cat woman qui ovviamente c'è i sgraffi de lei del gatto insomma comunque ma è carina che poi c'è scritto mao del gatto me o me o esatto sempre brillantinata bellissima apriamo insieme eccola qua solito specchio bello grande qui e questi sono i colori di non vado così perché sono sharing light non vedrete niente quindi la metto più o meno così ecco questi sono i colori all'interno questi qua mi piacciono un sacco questo verde ma vabbè stupenda mi piace veramente tanto quindi queste due erano invece le pallettine piccoline di batman e cat woman poi andiamo avanti e andiamo a vedere le due palette sia di joker questa volta che di harley queen cominciamo con joker guardate quanto è bella la palette ma i pecca sono veramente veramente fantastici il pecca ovviamente e la pallettina dentro uguale al pecca ovvio joker con la scritta specchiata di base nera opaca e tutte queste scritte lucide e la bocca sua non rossa che ride con ha 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 e della sua risata praticamente ma fa vedere sempre i colori all'interno che ci sono gli obiettivi viene di sempre colori vale sempre colori e andiamo ad aprire questa eccola qua la pallettina pure qua intorno fatta in questo modo e qua c'è pure una frase che qua c'è scritto però te jokers on you come per dire il joker se tu non lo so ragazze non vorrei dire una cavolata andiamo aprire questa eccola qua questi sono colori molto vivaci comunque ovviamente i colori rappresentano il personaggio come batman ovviamente sui scuri nero marroncino bianchino mattone strade qua che tuo man sui suoi colori e joker ovviamente c'è sta il verde rosso il blu comunque i suoi colori di joker molto molto belli bello questo pure malva pure qui tra opachi e e shimmer a poi una cosa non vedete parte qui si vede su quelli opachi come vedete c'è sta proprio il viso la faccia di joker su batman invece mi sono scordati di rivolò matato lo vedrete dopo ma credo che ci avete fatto caso che su quelli opachi c'è invece il simbolo di batman no il pipistrello eccoli qua veramente belli passiamo ovviamente a quella di harley queen adesso questa invece è tutta di base bianca e c'è tutte scritte anche lei lucide vero al no alcune lucide altre no ti parli qui ne lucida queste lucide ma quest'altra mi pare de no a no sì sì è tutte lucide harley queen love squad suicide che l'ho visto il film bellissimo qui fa vedere sempre palette all'interno questa è bianca qua oro la scritta veramente bella c'è adoro questa collezione bellissima all'inizio non mi piaceva tanto di urlù invece no vedendo i video su youtube dopo mi ha cominciato a piacere questa è la palettina con tutte scritte qua qua invece c'è scritto questo all crazy all perché c'è u l questo all crazy e questa qui è la sua palettina guardate i colori ovviamente di harley queen lei solo lui sul rosa di solito ma questi qua questo verde spettacolare la palettina darle qui ne ho innamorata cotta guardate si shimmer qua qua e qua ovviamente come vedete sui ombretti opachi c'è la faccia non proprio perché comunque forma di teschio col capelli a cui ciucci due ciucci di harley queen veramente bella ok ultima palette poi dopo rigiro la videocamera così veniamo sbocciare insieme ho preso la palettina quella media di batman questa qui è di latta e la terra ovviamente dentro a questa custode trasparente che adesso vi faccio vedere il tipo ciò questa qua della di capere voluscio avevo fatto vedere in un video tempo fa tempo fa odio neanche tanto tempo fa di tutte le mie palette vedete pure questa chiede la taglia comunque che si eleva la la stichina e cosa qui uguale questa qui la tengo ovviamente per i entro le tengo tutte nelle loro custodie ok adesso ve l'apro la andiamo a vedere meglio nel dettaglio a vi faccio vedere anche visto qui anche vi fa vedere i colori all'interno che sono veramente magnifici nevata eccola qua guardate quanto è bella ovviamente di latta tutto appaca bellissima ragazze c'è questo figurato che c'è uno spettacolo dietro per fatto così vi fate vedere i colori in tutti qua ce ne sono 18 aiuto scusate mi sbatto sempre a regalai come mio solito andiamo ad aprire ha ovviamente un bello specchio grande alla pellicolina meno male che qui i nomi invece ci sono scritti nella palette ragazzi sono di colori fantastici cesto giallo che dopo lo proviamo e sono veramente veramente belli vedete su questi opachi c'è il simbolo di batman vedete come sulla palettina con la piccolina poi c'era anche una palette un po' più grande però costava 23 euro qualcosa che sapriva di perfetto libro era bella quella pure non dico dai ventite euro sta spende per una palette gigantissima così anche meno anche perché c'ho il varie valigette e un sacco di roba e quindi non e quindi non mi pareva il caso ok queste qui sono tutte le cosine è tutto il mio haul adesso rigiro la telecamera e vediamo insieme nel dettaglio i colori degli ombretti di illuminanti eccomi qua ragazzi allora adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutti i swatches vi faccio vedere un attimo meglio anche il pennello faccio vedere anche queste cosine un po' velocemente nel dettaglio eccolo qua questo è il pennello e questo qui è lo spray eccolo qua questo qui lo spray un po di più ecco eccolo qua ok allora adesso cominciamo con la palettina di illuminante di batman ecco qua vedete bene perfettamente la palettina qua sopra c'è lo specchietto qui lo abbiamo la pellicolina ed eccolo qua vedete guardate quanto è bella è opaca e ripeto coi pipistrelli lucidi allora andiamo ad applicare l'illuminante andiamo a vedere com'è scusate per lunghi eccolo qua bello andiamo a vedere wow bellissimo è veramente bellissimo ragazzi è un rosa carne boh non ve lo so spiegare è bellissimo è illumina tantissimo boh un rosa carne un rosa rosa boh si molto molto bello quindi questo qui era l'illuminante di batman adesso andiamo a vedere vi faccio vedere anche meglio il pecc l'illuminante di catwoman eccolo qua faccio vedere meglio e adesso eccolo qui bronzato vuoi più scuro ve lo fa ma è leggermente più chiaro andiamo a quanto mi piace sti illuminanti bronzo a me mi piace né da morì guardate quanto è bello andiamo a sbucciare anche questo wow guardate che roba lo potete utilizzare anche come ombretto volendo questo qui è quello di batman e questo qui è quello di catwoman cioè ragazze è una roba pazzesca questo di catwoman è bellissimo poi non è che ne dovete mettere quintali è come illuminante però questo anche come un bretto credo che è una bomba bello bello tanto mi piace tantissimo ok adesso mettiamo via gli illuminanti cominciamo con le palette allora partiamo dalla palette questa qui di batman ecco qualche ve lo faccio vedere meglio qui a quella scritta che al contrario che vi dicevo ok apriamo qui leviamo la pellicolina a vi dico i nomi allora queste dark poche night vengan scusatemi per la pronuncia gotham city batman hero fear e mister win però vedete peccato perché sono scritti vedete qua nella pellicola era più bello se erano iscritti qua sulla palette lo potevano fare scritte bianche dato che sul nero questi qua sono i colori o così li vedete proprio meglio nel dettaglio e andiamo sbocciare vi faccio vanno nato una salvettina perché pulisco allora vi volevo utilizzare ovviamente non tutti e nuove gli ombretti ma vi volevo fare due opachi e due shimmer allora di opaco di due opachi ora facciamo partiamo dai opachi allora andiamo a vedere questo giallo no perché lo voglio provare sull'altra palette con la più grande vado a fare questo topaco e questo qua marrone qua scuretto allora questi due sono gli opachi molto scriventi come potete vedere adesso andiamo a vedere quali sbocciamo wow bellissima guardate gli opachi quanto sono scriventi da transizione se vedono un botto credo nell'occhio bellissimi per quanto riguarda invece i shimmer mi ispira questo non lo so un rosa non lo so malva non lo so questo e andiamo a fare invece di questo oro che il solito oro sempre vado a fare questo colore qua che pare tipo un bronzato e nero eccoli e va sul verde invece questo è bellissimo questo va sul verde pare quello lì allora mi sboccio qua si infatti bellissimi questi due shimmer questo va sul verde tra un verde in bronzo questo non ve so dire che colore sarà un rame ragazzi veramente belli bellissimi approvata perché comunque sono anche molto molto scriventi ok passiamo adesso alla palettina di catwoman guardate quanto è stupenda no vabbè io adoro è veramente bellissima l'apriamo vi dico anche qua i nomi allora queste mia o kitty klaus jowels di amont tf like the view selina kyle non stavate vedendo niente e anti hero andiamo ad aprire quanto è bella questa catwoman piace da morire vi faccio vedere meglio gli ombretti eccoli qua ok allora gli opachi e ce ne due e quindi sbocciamo questi due carino questo rosa vedete anche qui c'è sta il viso di catwoman allora bellissimi questi due opachi questo grigetto beggiolino e questo rosa bellissimi wow sono molto chiari e ne manco si notano cerco di prenderne un po di più vediamo che dopo questi bisogna dargli più passate eccoli qua il rosa già si nota di più come potete vedere molto bello molto delicato tipo rosa barbie ma molto chiarino e questo beggiolino che a me mi va bene per quanto faccio le transizioni la prima tradizione vicino al sopracceno con la parte sopra dell'occhio che mi piacciono molto anche se non si notano molto belli belli come colori poi invece per quanto riguarda i shimmer oddio ragazzi non so quali utilizzarvi allora andiamo a fare questo l'altro shimmer da andiamo a fare questo viola qua scuro perché il verde lo volevo utilizzare da un'altra parte allora questo shimmer bellissimo allora wow guardate questo shimmer che questo rosa qua e poi il viola 9 bellissimo lo potete utilizzare ecco come illuminante questo ma anche questo viola che è ridecente bellissimo io bisogna che ne sguoccio a me sta parete mi piace tanto cosa che non ve ne sguoccio me ne sguoccio un altro allora volevo provare questo verde mamma mia guardate quanto è bello andiamo wow pazzesco guardate veramente bello e ridecente bellissimo sto verde sapevo che era bello ma vabbè bellissima ok basta così quindi questa qui era la palettina stupefacente bellissima di cat woman adesso vi faccio vedere quella di joker ecco la qua la vedete meglio bellissima ok apriamo voilà qui nomi allora smile crazy star thunder power questo è desiree stranger ha 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 della risata happy face che lui sorride sempre quindi ci si dice e joker ok eccoli qua vi faccio vedere meglio nel dettaglio i colori sono pazzeschi pure questi qui dei joker allora come vedete dopo anche ce ne tanti abbiamo soltanto tre shimmer allora di opaco no non è vero shimmer abbiamo anche questo perché vedete questo arancione un po brillantinatino pare c'è qualche andiamo a vedere andiamo a vedere questo poi il rosso su ovviamente e facciamo anche il verde dai di questi tre eccoli qua si vede colori molto matti molto pazzerelli come lui arancione rosso e verde allora adesso vi sfumo meglio madonna allora l'arancione è un opaco ma vedete a qualche glitterino giallino vedete questi due non so se li potete percepire bello il rosso che ve lo dica fa il verde pure stupendo cioè potete fare un bel colore un bel trucco pazzerello molto bello cioè per essere opachi guardate che roba stupendi ripulisco un attimo le dita manco vanni via te la mano allora adesso invece di shimmer ne facciamo soltanto e famoli tutti e tre shimmer sto punto tanto ciò le dita fuori c'è le dita pulite quindi facciamo questo che era joker questo che era crazy e questo qua ha visto che ci siamo wow ragazzi guardate il blu madonna no vabbè allora guardate questo qui grigetto bellissimo anche questo come punto luce anche all'interno dell'occhio bellissimo questo qui sempre sul nero verde questo blu ragazzi è pazzesco raccontate che qui ancora su umidina e caso bagnata di prima di metallizzato cioè guardate quello vedete meglio pure qua è pazzesco questo blu adoro questa dei giochi veramente stupenda bellissima quindi questa qui era la palettina di joker andiamo avanti questa qui invece è la palettina di harley queen eccola qua la faccio vedere meglio eccola allora l'apriamo e qui vi dico i nomi se riesco a dirveli se ci vedo perché è rosa è qua sotto e nero allora una crisi questo è mister questo è rotten paddin caos monster monster si doll bad guys e wild side ho fatto un po fatica però ok ragazzi a me la palettina di cui me la amo guardate che ombre guardate che scimmie guardate questo no vabbè sono bellissimi scusate mi sono emozionata facciamo guardate che roba no vabbè adoro allora partiamo con gli opachi ovviamente il blu e facciamo il blu e il suo amato rosa di harley queen ovviamente eccoli qua guardate che roba pazzesca wow abbiamo un po più di celeste no vabbè wow guardate quanto sono belli adoro poi prendiamo due shimmer volevo andare prendere ovviamente questo blu che è un pezzo c'è che stavo dietro anche dei video e vado a prendere questo verdino chiaro qua voglio vedere come sono sti verdi vabbè guardate parano sembrano i colori della sirena guardate quante belle ma vedere no vabbè no vabbè no vabbè adoro troppo lo sapevo che erano stupende questi adoro troppo guardate questo blu questo verde iridescenti guardate troppo no vabbè stupendo stupenda adoro ovviamente aspettatevi make up di queste qui anche però prima dobbiamo finire tutte altre collezioni poi questa qui e sarà sull'ultima che l'ultima collezione copreso però arriverà presto ok adesso andiamo avanti se scusate non vedete niente adesso passiamo all'ultima palette quindi questa qui di batman che la vedete meglio mi gusta fare così con le unghie che dilatta il suo specchio bellissimo la pellicolina la leviamo vi dico anche i nomi allora ma i siti down alfred bat signal robin darkness retours no rules anions games bat batarang bat cave bruce wine tower tema nord crusader bat mobile dark night e crimi halli ho cercato a pronunciare il meglio possibile a vi faccio vedere meglio ma vabbè ragazzi stupendo anche c'è mi piacere tutte veramente certo ok allora qui ovviamente l'opaco cominciamo lo so subito il giallo testare il giallo poi d'opaco testiamo di opaco questo qua darkness poi facciamo il terzo qui ne facciamo un po di più andiamo a fare questo rosa allora andiamo a fare questi tre eccoli qua qui sotto cioè quello di prima allora lo sapevo che il giallo era pazzesco cioè guardate il giallo ragazze e già che giallo un colore chiaro e questo c'è coprente bello guardate anche questo violetto e questo rosato un po più chiarino belli belli come opachi adesso invece mi vado a dare una ripulita un attimino andiamo a sbucciare 3 shimmer ok allora per quanto riguarda i shim e qua quanti ce n'è che vorrei a sbucciare allora vuoi sbucciare bat cave poi bruce poi sbucciamo cream hall e sbucciamo un po di più andiamo a sbucciare aiuto questo qua non rules wow spettacolo ragazze ora testo blu portateli guardateli adoro allora vediamo 1 2 3 4 ok perfetto no vabbè ragazzi ma di cosa stiamo a parlare guardate questo qui così è blu così pare nero cioè è un nero e iridescente cioè riflette il blu praticamente iridescente nero di base ma iridescente come muovete e ve lo fa blu questo qui stupendo che questi due parti potete utilizzare anche come illuminanti guardate questo tipo dorato molto tranquillo quest'altro pure color carne pare questo rosso così vabbè ragazzi adoro ne sbucciamo un altro aspettate volevo sbucciare quest'altro verde sì volevo sbucciare un attimo dato che l'ultima palette dai questo verde cruzader wow guardate che verde sì guardate quanto è bello no vabbè adoro bellissima sono tutte belle tutta la collezione adoro e quindi questa qui era la collezione di batman eccomi qua ragazze allora questa qui è stata è stato il mio acquisto per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto su così shop per quanto riguarda ovviamente la make up revolution perché la make up revolution che ha fatto questa collezione io sono stata veramente contenta perché sono dei prodotti veramente fantastici c'è coprono bene sono coprenti sti ombretti belli porposi si vedono c'è anche quelli opachi c'è sono il top del top io spero che vi sia stato utile per i vostri acquisti se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su sotto il video commentatemi fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione scusatemi stavi nissun su cosa fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione e fatemi sapere qual è stata qual è stato il vostro pezzo preferito il mio pezzo preferito tra tutto sono due che mi piacciono di più è questa palette qui e la palette di harley queen questi due sono i miei due pezzi preferiti adoro adoro proprio mi piace tutto e non è che mosse questi due prezzi preferiti miei altri due li butto via perché non mi piace no sono tutti top tutti bellissime anche quelli dei joker sono belli scriventi però quelli che mi hanno colpito più è stata questa palettina qua e questa qui di harley queen mi sono accusata di sapere anche i vostri i vostri gusti quindi fatemi sapere sotto nei commenti mi raccomando io niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao